Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così, niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Buongiorno a tutti, da Claudio Di Lernia, coordinatore della Federazione Insieme per Cierignola, saluto gli amici che ne fanno parte, i segretari di partito, Vito Di Ciolla, Francesco De Cosmo, Michele Lapollo e poi oggi concluderà anche il nostro meteo Antonio Di Girolamo. Un saluto va anche al nostro assente per motivi di salute Andrea Di Biase, ti auguriamo una buona e pronta guarigione. Bene, cari amici, cari amici, aprite bene le orecchie. Una volta il re mandava un suo emissario per le piazze e diceva in questo modo, udite, udite, udite. E io dico a Cierignola, aprite bene le orecchie. Si vuole ricandidare l'ex amministratore Franco Metta, è la terza candidatura a sindaco nel giro di 15 anni. Voi direte, è una buona notizia, ma che? Perché, come nel passo biblico, si legge questa famosa frase, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Anche perché è lo stesso amministratore a parlarne in un scenario politico parecchio dissestato da veleni e lotti a punta di coltello, tanto ma tanto accuminate. E lo stesso amministratore non si rende conto che viene accompagnato ed è animata da improbabili protagonisti che potranno scrivere qualcosa nella scena futura della politica. Bene, io, cari amici, questo ex amministratore ha incartato sorridente il risultato quindi dello scioglimento del Consiglio Comunale come se fosse stato un capolavoro dell'alchimia politica. Secondo voi è stato un capolavoro lo scioglimento del Consiglio Comunale? Ecco, vi pongo questa riflessione. Primo. Secondo, voglio leggervi e elengarvi le tappe di questa sua disfatta politica. Diciamo che rappresentano questo suo modo di fare come da ultimo scatto. Ma andiamo nei fatti. Abbiamo un Consiglio Comunale dove non escono bene nemmeno i consiglieri comunali i quali sono corresponsabili del fallimento della politica cittadina. Primo fra tutti sono i primi corresponsabili dell'aumento tari. Signori, se noi oggi pagate il 65% di immondizia è grazie alla buona politica di questi consiglieri comunali che hanno la faccia tosta di riproporsi all'elettorato. Si devono solo vergognare perché se loro avessero voluto non alzavano la manina e questo provvedimento non sarebbe passato. Oggi noi paghiamo il 65% grazie a questi consiglieri comunali e voi li conoscete tutti. Sapete chi sono. C'è stato qualche mente che ha ragionato per conto suo e si è allontanato. A queste persone all'inizio c'è Teresa Lapiccirella a cui va un nostro grazie che non è responsabile di questo aumento tari. Attenzione. E poi una serie di assessori che hanno abbandonato e hanno fatto come si suol dire un grand'esodo in un'isola felice. Parliamo della Pia Zamparese, parliamo delle Noci, parliamo di Albanese, parliamo di Leonetti, parliamo di l'architetto Bufano, parliamo di tanti assessori che sono andati via dall'Egitto. Questo è questo modo di fare di questo signore. E non vorrei pensare che i consiglieri comunali siano stati costretti a subire le sue strategie politiche. e oggi vedete la disfatta del comune di Cerignola. Una faccia che ride e l'altra che piange. Attenzione signori, è sempre la stessa faccia. Poi, vorrei anche mettere in evidenza un'altra cosa. Questo ex amministratore che tanto si erge a buon conoscitore della politica, l'ho sentito in radio qualche tempo fa dicendo vabbè, ma tutti facciamo degli errori. E' un buon padre di famiglia, fa dei mutui per comprarsi la casa e poi dopo gli rimane la casa. Franco, a noi non c'è rumore la casa è stata venduta all'asta. Hai fatto i mutui, la si è fallita, hai fatto solo due rotondi, adesso il palazzetto che non è manco agibile. Cioè tu hai fatto una struttura che non è agibile. Poi è venuta l'ANAC. Lascia stare che hai fatto la fiduzione, 1.600.000 euro, tutto nello specifico, come dici tu, è un fatto vecchio di tanti anni fa. D'accordissimo, però c'è un dato di fatto, oggi reale, che dimostra che eri incapace politicamente. Non si può essere controllore e controllato dalla stessa società. E' sbagliato. Il controllore doveva essere un dipendente comunale. Invece no, guarda caso, il controllore è controllato secondo l'articolo apparso sul giornale, era della stessa società. Allora andiamo ancora avanti. Il Consiglio Comunale chiaramente non esce bene perché purtroppo rappresenta una città dolente. Questo è quello che noi oggi abbiamo. Poi andiamo ancora nello specifico. Basta farsi una passeggiata fuori Cerignola dove vediamo i sacchetti dell'immondizia. Voi mi direte ma che c'è da franco mette? Non dovete vedere come dire l'effetto. Vedete la causa che ha scatenato quell'effetto. Oggi se c'è gente che butta l'immondizia per strada chiaramente non è un segno di civiltà questa è incultura però se all'epoca l'amministratore non avesse fatto quelle scelte scellerate la SIA non sarebbe fallita. La tecla non si fosse stata Cerignola e oggi ci sarebbe una raccolta differenziata fatta come Dio comanda fatta con i cassonetti ci vorrebbero le isole ecologiche le stazioni ecologiche perché purtroppo questa gente che va buttando questa immondizia per strada non la cambieremo mai abbiamo proposto anche alla tecla di mettere gli scarrabili ma questo la tecla non l'ha ancora fatto noi facciamo un appello alla tecla mettiamo gli scarrabili presidiati Cerignola Nord centro e sud in modo tale che le persone non buttano l'immondizia per strada noi non siamo dei porci non siamo degli animali non siamo un rifiuto e allora se noi vogliamo guardare signori al futuro della nostra città voi mi direte e tutti parlano così sì se vogliamo guardare al futuro della nostra città la prima cosa che dobbiamo fare è mettere nella condizione di di evitare di ingannarci ancora questo ex amministratore in che modo non andandolo a votare ma andandolo a casa vi ricordate anche la scuola Marconi lui dice la buona politica anche la scuola Marconi il comune di Cerignola vi invito a leggere i documenti ha pagato una penale di 600 mila euro e lui dice io non sapevo niente e lei la scuola Marconi non sapevo niente e il Palazzetto io non sapevo niente e la SIA io non sapevo niente l'aumento Tari io non sapevo niente le rotonde le hai fatti con lo scomputo ed è contato di fatto e poi dice che hai fatto in investimenti per 100 milioni di euro io non li vedo io vedo solo se vado in campagna nelle strade comunali e quindi se vogliamo dal punto di vista proprio rendere la campagna vivibile dobbiamo rendere le strade comode per gli agricoltori e tu in 4 anni in 5 anni hai fatto come dice il nostro dottor De Cosmo hai fatto Cerignola facendo le strade intorno intorno come una bella donna che si trucca e come dice Vito Di Ciolla si mette il parrucco si mette un rosset però non si lava questo hai fatto a Cerignola andiamo a vedere ma andiamo a vedere veramente fra le campagne ci sono le voragini se vai su via tra la Madonna di Ripalta hanno chiesto più voto un intervento perché lì si forma un laghetto basta che piova un pochettino basta che uno vada ad urinare e lì si forma il laghetto e tu invece in 5 anni io ho fatto una buona politica ti devi vergognare tu non hai fatto buona politica tu hai fatto solo un disastro politico economico e sociale a Cerignola io chiedo a questi nostri concittadini di avere coraggio di avere determinazione per mandare a casa questo signore mettiamolo nella impossibilità ancora di ingannarci non vi fate infatuare perché questo momento che lui si crede il leader del momento il leaderismo di Annata ormai si è reso conto lui stesso che non lo è più quando vi ho parlato la settimana scorsa di essere visionario in politica lui si credeva un visionario ma concludo dicendo che era solo semplicemente un dissociato dalla politica e allora signori mandiamo a casa questo ex amministratore cercate di mandare a casa il cedo dominante il cedo dominante con i suoi adepti perché questo amministratore è il responsabile ed è il capo di questo cedo dominante è l'artefice di questo cedo dominante voglio spiegare che cos'è il cedo dominante il cedo dominante sono i politici che vogliono fare i dittatori che vogliono comandare assieme ai dirigenti che stanno nella macchina amministrativa questo è il cedo dominante che noi dobbiamo mandare a casa signori stiamo attenti non ci facciamo infatuare a noi ci hanno chiamato a me e questo gruppo insieme per Cerniola tutti ci stanno chiedendo di aiutarci di salvare questo paese da un triste epilogo questo paese è in piena crisi è una crisi che se non riusciamo con delle buone politiche non riusciremo mai a far risorgere come vi ho già detto già altre volte con questa operazione Lazzaro noi abbiamo dei progetti politici molto importanti per Cerniola il dottor De Cosmo parlava la settimana scorsa dei giovani noi esiste la cultura non assistenziale ma la cultura del rischio cioè mettere i giovani nella condizione di poter produrre un proprio reddito di iniziare un'attività lavorativa e non di venire ad elemosinare un'occupazione di elemosinare un posto perché basta vedere sul Comune o in queste aziende che partecipano al Comune sono tutti raccomandati e se andate a chiedere a un qualsiasi sindaco perché essi è candidato io so già la risposta e la sapete anche voi qualsiasi sindaco vi dirà per il bene della mia città e io se mi permettete vi faccio una pernacchia perché non ci credo noi invece siamo diversi dagli altri perché noi stiamo portando una nuova cultura della politica una nuova cultura che deve avvenire prima di tutto nelle nostre teste deve avvenire prima di tutto con una democrazia di partecipazione con una democrazia diretta questo è non il dittatore il sindaco che comanda in assoluto lo stesso nostro candidato sindaco Francesco De Cosmo parla di democrazia diretta c'è il popolo protagonista non solo per strada ma anche negli uffici comunali questo è ciò che noi ci proponiamo di fare come rinnovamento come rivoluzione cultural politica se sappiamo guardare e siamo lungimiranti e siamo visionari allora sì che questo paese potrà risorgere la nuova vita altrimenti possiamo declamare il De Profundis io ho finito cari amici e sono la TRC da quello che ho detto e vi auguro una buona domenica buongiorno a tutti e buona domenica Davide Di Ciolla vice coordinatore della federazione insieme per Cerniola un saluto a tutti i nostri cari amici radioascoltatori come sempre vi ricordo che potete citare su youtube scrivendo dal nostro punto di vista e sincronizzandovi la mattina a mezzogiorno circa sul radio TRC un saluto a tutti i nostri cari amici della federazione compresi il candidato sindaco Francesco De Cosmo il coordinatore Claudio Di Lernia e tutte le sigle di partito che ne fanno parte oggi parliamo di un qualcosa che purtroppo ci vede sempre in prima pagina ma mai in positivo ma in negativo oggi leggiamo un'altra un'altra scelta scellerata che la vecchia amministrazione ha fatto ma io non voglio stare a dar peso e a parlare sempre di questa persona perché purtroppo ahimè ne dobbiamo parlare perché quando si vede l'ombra del diavolo purtroppo lo dobbiamo dire cioè non possiamo negare questa pagina sporca della nostra città prima di parlare dei nostri programmi e di quelli che noi proponiamo ai nostri concittadini che come ben sapete io sono uno di quelli che più volte ha parlato dei programmi però purtroppo voglio evidenziare un passaggio importante perché i cittadini devono sapere bene quello che le amministrazioni o la vecchia amministrazione ha fatto e ha prodotto come ben sapete l'altro pasticcio è stato fatto con il palasport alcuni segretari di partito vogliono già evidenziare dicendo ma guarda è successo che è la malgestione ma noi questo problema del palasport il problema del famila cari amici l'abbiamo menzionato ma sapete da quanto dal 2018 2017 dai primi momenti quando gli altri segretari di partito altra gente che fa politica taceva si metteva in silenzio là in un angolo vi ricordo che possiamo citare alcuni passaggi di quando abbiamo parlato del terreno che si stava regalando a questa società ricordiamo benissimo anche il terreno per quando riguarda il famila ma tutte queste cose noi le abbiamo già dette e temba dietro adesso che leggo i giornali vedo sti sti piripecci che si mettono a dire dice no ma noi sapevamo noi immaginavamo noi l'abbiamo detto cioè a differenza vostra abbiamo visto lo diciamo oggi noi l'abbiamo già detto noi di questo argomento qua per quanto riguarda i terreni di sto papocchio che è stato fatto in 448 come si chiama la matè si prende il terreno beh vi nacque Pasquali la mafe la mafu Giambot lo diciamo proprio com'è il fatto lo diciamo in modo elementare quello che è successo inutile parlare con mezzi termini inutile stare a parlare con quella maniera tecnica che lascerò al nostro caro amico dottor Francesco De Cosmo lui in maniera molto più dettagliata ma io ve lo dico in maniera in maniera molto elementare in maniera molto molto spicciola il fatto è questo basta al consiglio comunale cosa si faceva si alzava la mano i consiglieri di maggioranza alzavano la mano ahimè probabilmente venivano forse me lo immagino forse quando la notte dormo mi sogno alcuni passaggi venivano prendere da botte può anche essere può anche essere e allora loro costretti alzavano la mano questo è un mio sogno conoscendo il linguaggio che veniva utilizzato nella vecchia amministrazione probabilmente quei poveracci costretti ad alzare la manina e però il danno a chi è stato fatto alle tasche dei cittadini alle tasche nostre alle tasche della brava gente questa è la stessa cosa quando c'è stato l'aumento Tari chi ha pagato l'aumento Tari chi l'ha sempre pagata chi non l'ha pagata ci ritroviamo migliaia di cartelle di pagamento che in ufficio sono arrivate dove all'ufficio ambiente ci sono cataste montagne di sollecitazioni di pagamento come mai questa cosa come mai tuttora oggi ci sono un sacco di cartelle da pagare però c'è stato l'aumento e come mai l'amministrazione ha incassato quell'aumento da quella brava gente che ha sempre pagato forse ha scambiato che ci sono i cittadini stupidi e i cittadini fra virgolette drette non è così non si divide in questa maniera il cittadino allora noi siamo di quel di quel concetto bisogna pagare pagare tutti poco ma tutti per farlo bisogna ripristinare la situazione sia bisogna rimettere in sesto quello che era il consorzio rimettere in sesto l'azienda dei rifiuti e non che sta in mano a una società campana e per fare questo così facendo si può snellire quello che è il pagamento nelle tasche dei cittadini questo significa amministrare chi non sa amministrare cosa fa fa fallire una società per darle in mano ad un'altra società che a sua volta deve rincarare e per poter mantenere il personale vi deve dare una sdangata questo è stato fatto invece di scrivere chi l'ho fatto la pernac io chi l'ho fatto gabinet io no dobbiamo dire chi ha fatto questo danno bisogna dire io chi ha fatto quest'altra cacata al palasport io chi ha fatto sto cacatone alla marconi io e fratello caro e quel c'è invaso non pensi che è diventato cerniolo una fogna ogni cosa esce una novità ogni giorno una novità ogni settimana è una novità e che cosa c'è assieme di cerniolo dov'è diventato l'uvo di pasqua mi sembra vedere questo ma è assurdo ed è più assurdo vedere persone che oggi dicono io mi vado a candidare con quel soggetto ma stiamo scherzando ma significa avere un coraggio cioè noi stiamo qui condando sulla punta delle mani cioè guardate le mie mani sono dieci dita zero di quello che è stato fatto dieci del male fatto allora mettiamo sulla bilancia cosa sta succedendo ad esempio me ne ho recito un'altra cosa rotonde fatte del tutto sbagliate una rotonda che non vale un cacchio per non dire una volgarità in radio per quanto riguarda via Pantanella quella rotonda là indefinibile indescrivibile è una cosa veramente vergognosa noi abbiamo in quell'ingrocio là una cosa insignificante quando in realtà servirebbe una rotonda via e propria dopo la via di Porta Manfredonia dove c'è il cavalcavia che porta sulla statale 16 dove ci sono quei benedetti semafori che creavano colonne di auto nelle orari centrali che adesso sono spenti non funzionano perciò si è ritornato al passato lì serviva una rotonda come il pane o addirittura sulla strada per immettersi sulla strada di Foggia dove c'è il nuovo raccordo che porta a Torricelli lì succedono sempre incidenti là è una cosa che noi faremo nella prima settimana di amministrazione regolare quell'ingrocio là che è pericolosissimo ogni giorno c'è un incidente ogni giorno succede un sinistro sempre in quel punto là invece la rotonda dove è stata fatta? Largo Masiello è stata fatta in un punto dove stava bene come stava la strada cioè mo dico io ma sta fando a sé chi lo tratta? forse probabilmente quando la notte si va a dormire però è un dato di fatto le opere che sono state fatte quelle poche opere che sono state fatte sono state fatte male perché ci sono punti di cernuola che vanno totalmente ma totalmente rifatti e possiamo parlare di altri argomenti purtroppo devo dare spazio anche agli amici della federazione e devo stringere al massimo i tempi perciò quello che io voglio dire agli amici elettori l'era del fumo negli occhi è finita fumo non ce n'è più è stata buttata già l'acqua di cui dobbiamo guardare in faccia la realtà noi della federazione insieme per cernuola con le sighe di partito e col candidato sindaco Francesco De Cosmo abbiamo le idee chiare abbiamo un programma è imminente e sui palchi dei comizi vi delucidiamo vi aspettiamo la prossima settimana per argomenti molto molto più fra virgolette affascinanti come sempre mi assumo la responsabilità di ciò che ho detto augurandovi buona domenica gentilissimi amici cerignolani buona domenica da Michele Lappollo grazie soprattutto agli amici della federazione insieme per cerignola il mio intervento è un intervento sociale non parlerò minimamente di ciò che è successo precedentemente a cerignola ma vorrei dare un contributo per recuperare ciò che ci hanno tolto ecco vorrei parlare del nostro programma voglio entrare nel sistema nostro nelle idee come vogliamo cambiare questa città perché è facile parlare di chi ha sbagliato ma è difficile anche ragionare per quelli dell'altra parte che si stanno preparando nel gruppo della sinistra alcune di queste sono persone pericolosissime io sto aspettando di fare un comunicato stampa ma non adesso perché sarebbe facile che questi mi rispondano un bel comunicato stampa per aprire gli occhi alla nostra città perché i cittadini devono sapere tutto di quello che è successo debbono vedere e leggere il curriculum di queste persone che si stanno candidando la velocità perché si sono candidate hanno paura questo quando uno corre corre la paura nasconde anche i sentimenti vi voglio parlare dei comunisti che stanno a sinistra perché non è che a sinistra stanno quelli di sinistra ci sono i comunisti di sinistra che si sono presentati forti si sono presentati con l'ardore senza un programma ad oggi non abbiamo ascoltato la A la B e la Z di un'idea per Cerignola e io vi voglio raccontare adesso che cos'è il sociale perché la differenza tra il pubblico e il sociale con gli amministratori pubblici è una questione di cultura posso dire anche di cultura cattolica anche però chi fa il sociale al 100% fa il sociale anche a livello cattolico bene nel 96 il sociale ha dato dei cambiamenti a questa nostra città e io vi voglio mandare delle piccole clip Torre Alemanna cooperativa San Francesco si mise gli scafandri e iniziò a zappare la terra bene oggi Torre Alemanna è quello che è il dato di fatto che la cooperativa che fa solo sociale si è messo e si è dato da fare certamente con il contributo economico dopo la defizia dice c'è un museo dell'elementare cooperativa San Francesco nessuno voleva andare la sia se non sbaglio l'Asia c'era noi ci siamo buttati dentro con il rischio di prenderci anche le malattie e abbiamo dato a questa città un museo terzo vogliamo andare ancora avanti bene l'ex liceo classico carissimo Andrea di notte abbiamo fatto i blitz per non perdere la struttura che doveva ritornare alla provincia qualora non ci fosse stato il trasferimento cooperativa San Francesco stabilizzazione i primi appalti con gli antipubblici e io ripeto mai un affidamento diretto mai mai abbiamo avuto una denuncia che poi è passata anche per l'ANAC mai e poi mai bene i personaggi che hanno distrutto il sociale uno si trova a sinistra e l'altro se n'è andato per via aerea non lo so dove appartiene questo qua allora la motivazione per le quali io ho deciso due anni fa di far parte di questo gruppo è una motivazione di libertà proprio con Francesco io ho avuto modo di ragionare e di dire noi dobbiamo rappresentare le idee la chiarezza e presentarci alla città non più con un simbolo di partito ma come idea per Cerignola per questo io sto in questo gruppo perché si può ragionare di programma non c'è imposizione non c'è chi fa fuga in avanti questa è la verità di fatti e noi pedisseguamente ogni settimana daremo a questa città la possibilità di capire qual è la nostra idea per Cerignola ce ne abbiamo di idee fattibile non le chiacchiere che vanno al vento ma ciò che effettivamente noi abbiamo prodotto in questi anni la realtà occupazione servizio per la città e soprattutto amore per questa città bene ci vediamo prossimamente su questo schermo mi assumo ogni responsabilità e buona domenica a tutti ben ritrovati nell'appuntamento meteo dopo la fase di maltempo che ha catarizzato l'inizio della settimana scorsa andiamo in avanti andiamo verso una situazione di tempo generalmente più stabile e più soggiata infatti la settimana sarà l'insegna del bel tempo con temperature in ulteriore aumento facciamo dunque il quadro della situazione partiamo dalla giornata di lunedì martedì meccodì quando l'anticiclone dell'Azore si farà di nuovo avanti riportando tempo stabile e soleggiato su tutta la provincia e non solo anche sul resto della regione temperature saranno in ulteriore aumento un clima dunque estivo praticamente primaverile nel corso del fine settimana quindi a partire da giovedì venerdì e sabato un aumento un incremento dell'alta pressione con temperature che potrebbero anche raggiungere i 41-42 gradi quindi massima letta soprattutto per gli anziani restare dentro soprattutto giovedì venerdì e sabato prossimo mi resta che avrà buona domenica a tutti come sempre da Antonio ci sentiamo ci sentiamo al prossimo allora dolcis in fundo Francesco De Cosmo una buona domenica una domenica ricca di sole ma soprattutto una domenica dedicata alla serenità e alla tranquillità delle proprie famiglie consentitemi di rivolgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Gianfranco di Biase grande lavoratore ed esempio di onestà e come dire impegno nel lavoro che purtroppo nello svolgimento del proprio lavoro ha trovato la morte era dovuto questo saluto alla famiglia di Gianfranco di Biase per introdurre un argomento molto ma molto importante noi l'hanno detto i miei amici di federazione abbiamo inteso porgerci alla collettività di Cerignola e quindi abbiamo inteso da tre anni a questa parte fare politica in maniera differente il nostro sarà un compito ma io tra virgolette la definirei una missione rivolta soprattutto a dare dignità a quei nostri concittadini che purtroppo ogni giorno sono costretti per poter lavorare a stare lontani dalla terra natia oppure come capita spesso forse qualche amministratore non nemmeno se ne rende conto quando il lunedì mattina su dei furgoni sono costretti ad emigrare per poter trovare un posto di lavoro allora cari concittadini purtroppo vi chiedo scusa per il timbro della voce in quando sono purtroppo tormentato da un grosso raffreddore però sentivo la necessità ma soprattutto la voglia di darvi il mio conforto ma soprattutto in questo momento come diceva Antonio Di Girolamo nelle previsioni del tempo sarà una settimana calda ma soprattutto per la politica di Cerignola e perché una settimana calda perché come diceva Michele Lapollo ci saremmo aspettati da parte di tutti questi candidati sindaci o pseudo candidati sindaci di esporre quelli che sono i programmi che animeranno la loro campagna elettorale quelle che sono le sollecitazioni ma soprattutto quello che intendono fare per una collettività che la vecchia amministrazione ha distrutto ha lasciato al collasso ma soprattutto una città allo sbaraglio stamattina scusatemi una piccola battuta un vecchietto leggeva un manifesto metta il mio sindaco è arrivato subito un amico che ha detto metta è l'autore dei guai di Cerignola e purtroppo dove ho dovuto dargli ragione perché come hanno esposto i miei amici di federazione non è certo la rotonda oppure la piazza che devono in un certo senso qualificare l'operato di un'amministrazione oramai il tessuto sociale ed economico di Cerignola è stato distrutto come più volte ho detto sono andate via le regole sono andate via quelle che rappresentavano le consuetudini e oramai ognuno si sente libero di fare quello che vuole in un contesto che come dicevo prima oramai è al collasso allora quello che noi abbiamo bisogno di fare ma soprattutto dobbiamo necessariamente fare essere i depositari delle istanze della cittadinanza e come diceva Michele Lapollo dare risposte certe e sicure nel più breve tempo possibile allora non possiamo perdere tempo dietro alle poltrone non possiamo perdere tempo dietro agli appetiti abbiamo la necessità ma soprattutto il dovere perché fare politica significa un dovere di dare risposte certe nel più breve tempo possibile e siccome in questo momento stiamo assistendo ad una economia che è sull'orlo del fallimento la prima risposta che noi cercheremo di dare alla cittadinanza di Cerignola è quello di riappropriarci di quelle che sono le strutture che hanno sempre animato la nostra economia mi riferisco alla raccolta dei rifiuti solidi urbani è nostra intenzione riprendere ricostruire un'azienda locale che possa gestire il servizio della raccolta di certo non creando quello schifo che questa società non di Cerignola sta creando alla collettività di Cerignola giorni fa grazie ad una raccomandazione sia ben chiaro non per avere un posto di lavoro ma per avere un posto in un garage dove era un mio diritto a averlo perché avevo il posto in questo garage da vent'anni mi sono sentito dire devi necessariamente rivolgerti a Tizio e Caio altrimenti non avrai più il posto tenendo presente che io abito a due metri di distanza e frequento questo garage da vent'anni e questo perché perché l'appalto è stato affidato ad una società di Perugia che non conosce nemmeno il contesto dove questo appalto si svolgerà ma soprattutto la prima cosa che ha fatto è stata quella di meccanizzare il tutto riducendo notevolmente i posti di lavoro allora vi posso garantire ed è un impegno che assumo in prima persona e assumo a nome della federazione insieme per Cerignola a noi la schiuma non interessa a noi interessa la sostanza allora dai primi giorni cercheremo di dare opportunità di lavoro cercando di sfruttare soprattutto quelle che sono le risorse di cui noi disponiamo ma soprattutto mettere a disposizione della cittadinanza di Cerignola quella intelligenza e quel fiuto amministrativo che ha sempre contraddistinto non solo la mia persona ma tutti coloro che hanno aderito alla federazione insieme per Cerignola concludo il mio intervento ringraziando ulteriormente il nuovo PSI per la disponibilità e per la stima che ha mostrato sposando la mia candidatura e sono certo che nell'arco di qualche giorno altre forze politiche del centro-destra in un ragionamento logico ma soprattutto in un dibattito politico possano fare altrettanto è importante in questo momento l'unione perché come ho sempre detto le guerre non le battaglie le guerre si vingono con l'unione e con la partecipazione di tutti allora rimbocchiamoci le maniche mettiamoci tutti a lavorare anche perché probabilmente causa del covid che si sta ulteriormente diffondendo si voterà nel mese di settembre e allora dobbiamo necessariamente avere il quadro completo di quello che sarà lo schema politico nostro e del centro-destra in modo tale che i cittadini ma soprattutto coloro che rappresentano i nostri simpatizzanti avranno risposte certe in tempi rapidi vi ringrazio se vi ho annoiato vi chiedo scusa se mi avete seguito sono fortemente contento di questa vostra attenzione dichiaro che tutto ciò che ho detto l'ho detto sotto la mia responsabilità escludendo la TRC da ogni responsabilità vi do un appuntamento a domenica prossima e vi auguro una domenica serena e tranquilla niente paura niente paura niente paura ci pensa la vita mi han detto così niente paura niente paura niente paura si vede la luna perfino da qui la luna che si vede la luna di questa Grazie.